Amarezza per Lady Gaga. Le trovate shock non sono bastate a salvare il suo ultimo album Art Pop che a due mesi dall'uscita non ha raggiunto il successo planetario che ci si aspettava. La goccia che ha fatto traboccare il vaso però è stata in ritardo nella pubblicazione del video Do What You Want. Lady Germanotta non ha resistito e si è sfogata direttamente con i fan sul sito Little Monster. Il video è in ritardo perché mi è stata data una settimana per pianificarlo e realizzarlo. È devastante per me che dedico ogni momento della mia vita per creare fantasie per voi. Tutti i miei video di maggior successo sono stati concepiti quando ero riposata e la mia creatività era al meglio. La star si definisce tradita dalla direzione, incapace di gestire il suo tempo e la sua salute e di limitare i danni. I milioni non bastano per qualcuno, vogliono miliardi di dollari e poi trilioni, ha accusato la cantante, che però vede il futuro con ottimismo ed aggiunge I prossimi mesi saranno il vero inizio di Art Pop perché tutti quelli a cui non interessava il successo dell'album se ne sono andati. Ora i sogni che avevo ideato potranno essere alla portata di tutti.